Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Parma e Chiusi Chianciano e in A11 e in FIPILI lungo tutto il percorso. Nevischio tra Pian del Voglio e Aglio in A1 e vento forte sempre in A1 tra Badia e Aglio. In A1 autobus in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. In A11 perdita accidentale di un copertone tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. Per quanto riguarda le statali, fondo stradale dissestato sulla Trebbis Tiberina tra Balsavignone e San Carlo in entrambe le direzioni e sulla 64 Porrettana tra Pavana Pistoiese e Sasto Marconi in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!